Un cordiale benvenuto a tutti voi cari amici telespettatori. Il governo Meloni sta approntando un disegno di legge che prevede sostanzialmente una sanatoria per chi ha evaso le tasse. Sostanzialmente si cancellerebbero le condanne o comunque il rischio di condanna o di versamento di multe salate per chi ha evaso le tasse. Su questo tema, che è un tema ricorrente al pari delle pensioni, abbiamo fatto una nostra riflessione. Dovremmo avere il coraggio di dire che le tasse sono una cosa bellissima e civilissima, un modo di contribuire tutti insieme a beni indispensabili come la salute, la sicurezza, l'istruzione e l'ambiente. A dirlo, se vi ricordate, fu il ministro dell'economia Tommaso Padoa Schioppa nel 2007, all'epoca del secondo governo Prodi. L'affermazione di Padoa Schioppa si inseriva all'interno del ricorrente dibattito sulle tasse che evidentemente nel nostro Paese, al pari delle pensioni, sembra occupare le maggiori preoccupazioni della politica. Le tasse nel nostro Paese sono sicuramente molto alte, questo è un dato inconfutabile, e parimenti non assicurano servizi pubblici adeguati ed efficienti. La miscela di tasse alte e servizi pubblici inefficienti crea un inevitabile cortocircuito che poi alimenta l'evasione e l'elusione fiscale. A pagare puntualmente i tributi sono i soliti noti, i lavoratori dipendenti, e per il resto il quadro si presenta a tinte diverse a seconda delle categorie economiche e delle aree geografiche del nostro Paese. Ora il governo Meloni sta studiando un provvedimento che di fatto è una sanatoria camuffata, che prevederebbe per chi ha evaso la possibilità di evitare processi e condanne pagando allo Stato fino all'ultimo centesimo i mancati versamenti. È evidente che con provvedimenti di tal fatta vince in Italia il principio che chi non si comporta correttamente nei confronti dello Stato, cioè di tutti noi, al netto dei casi che possono avere una loro oggettiva giustificazione, alla fine la fa sempre franca. Non è un bel segnale che si manda ai cittadini perché si insinua anche negli onesti il disincanto e la sfiducia verso le istituzioni pubbliche. Certo, l'alta tassazione è la punta dell'iceberg di una macchina statale che non funziona, che consta moltissimo di un sistema burocratico farraginoso e complesso, di servizi pubblici inadeguati, pensiamo proprio alla sanità e alla scuola, di un costo del lavoro che unisce paghe tra le più basse a tasse tra le più alte, insomma un pachiderma pubblico costoso e improduttivo. Però detto tutto questo, evadere le tasse non è comunque giustificabile e resta un comportamento biasimevole che offende i tanti onesti che invece le leggi le rispettano e le tasse le pagano. Si parla di un'evasione annua che sfiora i 100 miliardi, pensate a quante cose si potrebbero fare con quella somma, soprattutto riducendo lo spaventoso debito pubblico che ci affligge e che impedisce al nostro Paese di crescere come potrebbe. L'Italia è il Paese che ha più avvocati e commercialisti in Europa, segno evidentemente che tra il pubblico e il privato qualche problema ci sia. Però alla fine il nodo torna sempre al pettine, perché se tutti rispettassimo le regole, anche le cose che non funzionano potrebbero essere aggiustate, ma se a rispettarle sono solo una parte, allora diventa più difficile migliorare ciò che non va. è un cane che si morde la coda, un circolo vizioso. Ecco perché l'affermazione di Padoa Schioppa, in fondo, descrive un orizzonte ideale in cui è bello e civile pagare le tasse, perché farlo significa contribuire tutti insieme alla costruzione del bene comune, quel senso di comunità che ci fa sentire cittadini con i loro diritti, ma anche con i loro doveri. Tornerà a riunirsi martedì 22 novembre prossimo il Consiglio Comunale di Cordenons. Tra gli argomenti iscritti all'ordine del giorno segnaliamo la surroga del consigliere Cesare De Benedetta prematuramente scomparso, alcune variazioni al bilancio di previsione 2022-2024, l'aggiornamento al programma biennale degli acquisti di beni e servizi, l'esame e l'approvazione dello schema di convenzione per la gestione in forma associata della gara per la fornitura di farmaci e parafarmici per le farmacie comunali dei comuni di Pordenone, Cordenonsa, Sicile e San Vito al tagliamento e l'approvazione dell'regolamento comunale per l'assegnazione di premi al merito dello studio. In giunta abbiamo approvato il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di sistemazione di via delle scuole inserito nel programma di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano, attraverso il quale il Ministero della Transizione Ecologica finanzierà i lavori per 150 mila euro sui 420 mila preventivati. lo ha annunciato il Vice Sindaco e Assessore ai lavori pubblici del Comune di Udine Loris Michelini. L'intervento, ha spiegato il Vice Sindaco, prevede la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile bidirezionale che collega il percorso della strada regionale numero 1 proveniente da via Giorgio Maniero con il tratto che prosegue verso il centro di Udine attraversando piazza Rizzi. E si terrà a Caorle giovedì 17 novembre domani con inizio alle ore 10 nella sala inferiori del centro civico di piazza Vescovado uno degli incontri intitolati le soluzioni per il caro energie organizzati da Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia e Rovigo. L'incontro è aperto a tutti i titolari di imprese associate a Confcommercio e Federa alberghi allo scopo di illustrare agli imprenditori il progetto Imprendi Green e il modello delle comunità energetiche fornendo alcune soluzioni e buone pratiche da adottare per contenere i costi dell'energia. E da lunedì scorso 14 novembre l'associazione Una Regione in Comune non ha più un consiglio direttivo. 14 componenti hanno rassegnato le dimissioni che unite a quelle già presentate nelle settimane scorse da un altro membro dello stesso direttivo hanno fatto decadere l'intero consiglio inizialmente composto da 30 persone. Per quanto ci riguarda l'ipotesi di sedersi al tavolo delle trattative in vista delle elezioni in Friuli Venezia Giulia del 2023 soltanto con il PD e azione escludendo la presenza del Movimento 5 Stelle e delle altre forze politiche di sinistra non è la soluzione adatta per creare una coalizione potenzialmente vincente. Semmai si tratta di una proposta divisiva e irrealizzabile frutto di calcoli opportunistici e di pressioni politiche esterne alle quali Malattia ha ceduto Malattia, l'avvocato Bruno Malattia è il presidente del Movimento e su questo punto abbiamo fatto una nostra riflessione. Un comunicato durissimo che non lascia spazio a fraintendimenti, un gruppo corposo di esponenti del gruppo civico regionale dei cittadini, ha dato le dimissioni dal direttivo in netta contrapposizione con il suo presidente Bruno Malattia che vorrebbe condizionare l'alleanza con il centro-sinistra per le prossime elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia escludendo i 5 Stelle e Open Sinistra FWG e aprendo al Movimento di Calenda e Renzi. I nodi sono venuti al pettine anche per un'esperienza civica nata per sostenere la candidatura di Riccardo Illi alla presidenza della regione e che dopo la fine di quell'esperienza è riuscito comunque a mantenere una sua presenza in consiglio regionale. Ma i tempi cambiano, la politica italiana dopo le ultime elezioni nazionali ha cambiato volto e anche per il Movimento Civico è arrivato il momento delle decisioni irrevocabili. A leggere il tenore del documento sottoscritto dai dimissionari si comprende che la tensione all'interno del Movimento ha raggiunto picchi molto alti e che è facile immaginare che l'Assemblea del Movimento chiesta a gran voce sancirà una frattura e molto probabilmente una scissione. A confrontarci sono due posizioni diametralmente opposte, quella dei firmatori del documento che chiedono di mantenere salda la collocazione all'interno di un'alleanza larga di centro-sinistra e quella del Presidente Malattia che spinge verso il centro di azione e Italia Viva. Con ogni probabilità la scissione avverrà proprio su questo punto con una parte dell'associazione che opterà per l'alleanza di centro-sinistra e un'altra che darà vita molto probabilmente al nuovo partito di centro in regione Friuli-Venezia-Giulia. Fine ingloriosa per un movimento che aveva rappresentato un fattore di novità nella politica del Friuli-Venezia-Giulia e che oggi sembra risucchiata da spinte politiche che cercano di appropriarsene. Da alcuni passaggi del documento si comprende benissimo che i suoi firmatari fanno riferimento a condizionamenti esterni che farebbero pressione perché il movimento cambi direzione o che comunque assuma una posizione più defilata rispetto alla tradizionale alleanza di centro-sinistra. Resta un fatto che anche in Friuli-Venezia-Giulia il centro-sinistra sembra sempre più allo sbando, senza una linea politica condivisa e soprattutto senza leader autorevoli in grado di rappresentarlo. Facile immaginare che per Massimiliano Fedriga le prossime elezioni saranno una passeggiata. 27 associazioni regionali hanno inviato una lettera al Presidente della Regione Friuli-Venezia-Giulia e al Presidente del Consiglio regionale, nonché a tutti i consiglieri del Friuli-Venezia-Giulia, chiedendo la modifica della legge elettorale e l'introduzione della doppia preferenza di genere. Il Friuli-Venezia-Giulia rimane a oggi una delle pochissime regioni a non aver introdotto questa norma già obbligatoria a livello nazionale. I risultati di questo ritardo legislativo sono evidenti nella composizione del Consiglio regionale. Le consigliere sono solo 6 su un totale di 49 consiglieri, pari ad una percentuale del 12,2%. Uno dei risultati tra i più bassi in Italia, dove la presenza delle donne nei consigli regionali si attesta al 19,7%. La costante attenzione allo sviluppo e alla crescita dell'offerta diagnostica radiologica dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, nell'ambito della collaborazione del gruppo multidisciplinare senologico, si amplia grazie alla recente acquisizione del sistema Scout Radar. La presentazione del nuovo sistema per la localizzazione di lesioni non palpabili dei tessuti molli è avvenuta ieri in ospedale a Pordenone, fra le prime strutture pubbliche in Italia a dotarsi di tal dispositivo. Noi eravamo presenti e abbiamo raccolto queste interviste. Vediamo. Dottor Viscosi, la radiologia interventistica di Pordenone si arricchisce di un nuovo strumento che allargerà in qualche modo l'offerta specialistica del nostro nosocomio. Ci può un po' illustrare di che cosa si tratta? Sì, ha detto bene. La radiologia interventistica, ma soprattutto l'unità senologica dell'ospedale di Pordenone, siamo primi in Italia, il primo ospedale pubblico in Italia ad avere questa attrezzatura, di questo nuovo prodotto che serve a localizzare le lesioni non palpabili in sala operatoria e quindi permette di raggiungere direttamente le lesioni per avere la certezza dell'escessione chirurgica con il minor danno sulla mammella per la paziente. E allora chiederei a voi come praticamente si utilizza questo strumento? Possiamo in qualche modo dimostrarlo? Qui lo abbiamo presente, no? Come funziona questo strumento? Allora, sostanzialmente si tratta di una clip di lega metallica che noi andiamo a posizionare sotto guida ecografica o sotto guida stereotassica, come facciamo già di fatto con altre clip di altri materiali. Proviamo a spiegarlo un po' perché anche le persone possono capirlo. Sostanzialmente voi penetrate con questo ago nel tessuto mammario, guidate e che cosa succede? Succede che estraiamo questa clip all'interno della lesione e facciamo un controllo sia ecografico che mammografico del corretto posizionamento di questa clip metallica dentro la lesione. Direttore, oggi presentiamo un nuovo strumento importante per la radiologia interventistica di Pordenone. Ecco, che significato ha questo momento, questa presentazione così importante nella dinamica più complessiva dell'attività dell'ospedale di Pordenone? Ma intanto è uno strumento sicuramente utile, già avete sentito da subito, ma poi anche in prospettiva perché effettivamente può migliorare sia i tempi e l'organizzazione in particolar modo per queste pazienti. Quindi da un punto di vista così di utilità sul paziente è sicuramente importante. In questo momento io lo ritengo anche simbolicamente importante perché noi sappiamo bene la difficoltà che abbiamo nel mondo radiologico, non tanto per problemi connessi a chi ci sta lavorando, ma a chi non riusciamo a trovare per integrare dell'equip che sono assolutamente in sofferenza. Possiamo fare un aggiornamento sui tempi per quanto riguarda il passaggio nel nuovo ospedale? Ci sono delle novità o siamo sempre nel lungo, diciamo, il cronoprogramma che vi siete dati. Allora, i tempi io spero che vengano confermati quelli che ho sempre detto, cioè durante i primi mesi dell'anno 2024. Per ora non vedo ritardi all'orizzonte. È chiaro che la settimana scorsa abbiamo dovuto decretare un aumento dei soldi per tutti i costi aggiuntivi, quindi non è facile anche tenere le ditte al lavoro in questo momento, in questo periodo. Stiamo facendo il possibile, per ora mi pare che ci stiamo anche riuscendo e spero quindi in un anno e mezzo di entrare in nuovo ospedale. Dottoressa Vallimarus, anatomopatologa dell'ospedale di Pordenone, buongiorno. Ecco, qual è il segmento di attività relativa a quello di cui lei si occupa rispetto all'utilizzo dello strumento che oggi è stato presentato? Beh, sicuramente è uno strumento fondamentale perché, diciamo, migliora la tecnica di prelievo e quindi focalizza le lesioni anche piccole in modo tale da avere veramente una diagnosi estremamente precoce ed affidabile. E lei, dottor Favero, è il chirurgo che in qualche modo si occuperà di questi interventi proprio anche con l'utilizzazione di questo strumento. Quali sono gli aspetti, i vantaggi che possono derivare per la sua attività chirurgica? Certo, buongiorno. I vantaggi sono diversi. Innanzitutto migliora la qualità della chirurgia in quanto è uno strumento molto preciso. Permette di descrivere la distanza espressa in millimetri tra la sonda e il nodulo non palpabile, quindi permette al chirurgo senologo di essere particolarmente preciso e quindi anche di una maggiore qualità per quanto riguarda interventi conservativi riducendo il tessuto sano asportato. E si è concluso il percorso di studi per 32 studenti del corso di laurea in infermieristica dell'Università di Padova, sede di Porto Gruaro. Nella sessione autunnale la commissione di laurea ha infatti eletto 32 neo-infermieri assegnando il voto massimo a 4 studenti. La metà di essi risiede nel Veneto orientale, gli altri nel Veneziano, nel Trevigiano e nel Friuli Venezia Giulia. Sono una risorsa indispensabile e sono già ricercatissimi, commenta il direttore generale dell'azienda 4 del Veneto orientale Mauro Filippi. Una quindicina di loro ha effettuato un tirocinio presso l'azienda e ha espresso la volontà di venire a lavorare qui. È un chiaro segnale che durante il tirocinio hanno apprezzato l'attività svolta, il modo di lavorare al fianco del personale esperto e con la propria visione da laureandi sono stati anche uno stimolo di innovazione nelle modalità di approccio e di gestione del paziente. E come avevamo già annunciato in una precedente edizione del telegiornale, il Comune di Pordenone ha dato vita ad una bella iniziativa in biblioteca civica rivolta alle persone con difficoltà. Vediamo il servizio. Lo scorso marzo è stato avviato presso la Biblioteca Civica di Pordenone il progetto Letture Senza Barriere, iniziativa finanziata dal Centro per il Libro e la Lettura e dal Ministero della Cultura. Questo progetto si rivolge ai bambini con difficoltà di lettura, ipovedenti, non vedenti, bimbi che manifestano dislessia o con bisogni educativi speciali, affinché anche loro possano frequentare con serenità e senza barriere la biblioteca della nostra città. L'iniziativa si sta sviluppando in più fasi. Inizialmente i dipendenti della biblioteca hanno ricevuto da educatori, psicologi e specialisti una formazione adeguata per accogliere i bambini con difficoltà, mentre a breve inizierà un ciclo di lezioni sul tema della disabilità visiva e della dislessia per educatori ed insegnanti. La biblioteca non è solo un servizio per prendere in presto i libri, ma molto molto altro. È un centro culturale e anche un centro che favorisce la lettura e la favorisce per tutti e questo è il senso di letture senza barriere che sta già andando avanti da un po' di tempo con una serie di azioni informative per gli insegnanti, gli educatori, le famiglie che continuerà. Continuerà con dei laboratori per i bambini con delle difficoltà da 0 a 10 anni e poi anche con l'acquisto di strumenti per agevolare la lettura, penso ai libri brail per i non vedenti, ma anche a supporti per i bambini con diverse forme di dislessia e di autismo. Il 17 novembre si svolgerà la prima delle quattro lezioni online gratuite, rivolte principalmente agli insegnanti, ma aperte anche a genitori e familiari che vivono da vicino il problema dell'autismo e della disabilità nella lettura. Per informazioni sul calendario degli incontri e per iscriversi www.comune.pordenone.it slash letture senza barriere E il portoguaro calcio femminile purtroppo esce dal campo del Merano con una sconfitta per due reti a 0 contro le prime in classifica. Il match si presentava già arduo anche per una formazione non totalmente coperta in tutti i suoi reparti. Giornata sfortunata per le nostre beniamine che hanno anche subito un furto mentre sostavano per il pranzo. Le immagini della partita a cura dell'amico Gabriele Zoya con il commento del nostro Davide Gasparotto. Impegno proibitivo quello per il portoguaro nella decima giornata del campionato di Serie C di andata. Infatti si va in casa del Meran Women, formazione neopromossa ma reduce da otto vittorie nelle prime nove partite. L'inizio è di marca locale, qui con la conclusione che non finisce lontano dai pali di Fontana. Ci prova dalla distanza Nischler, pallone bloccato da Fontana, sarà una delle protagoniste. Nischler come vedremo. Dodicesimo, calcio d'angolo di Per, colpo di testa proprio di Nischler. 1 a 0 per il Meran Women con il sedicesimo gol in campionato della classe 2000 Nischler, miglior marcatrice del girone. Vediamo sul secondo palo colpo di testa dopo l'uscita di Fontana. Il portoguaro arrivava a questa partita senza punte di ruolo, mancava anche Battagiotto che era stata decisiva a conquistarsi la punta da cui è scatturito l'1 a 0 contro la Triestina e sarà un portoguaro che faticherà a proporsi in avanti anche per la fisicità delle avversarie. Il Meran invece continua a insistere con per cross in mezzo, Reiner la classe 1996 segna alla mezz'ora il 2 a 0. Nono gol in campionato per lei è dunque partita già ampliamente indirizzata verso la strada dell'Alto Adige. Insiste il Meran qui con questo colpo di testa bloccato da Fontana, un pomeriggio che dunque si mette in salita per il portoguaro soprattutto perché c'è una scatenata PER dalla fascia sinistra converge e conclude, deve salvarsi alla garella Fontana. Ultime immagini di questo primo tempo che però vedono la reazione del portoguaro al 42esimo. Controllo laterale di Gaship, adentro per Matiz, scarico per Gava che colpisce in pieno una avversaria, poteva essere una conclusione pericolosa. Con le immagini di Gabriele Zoya andiamo nella ripresa ed è un Meran che cerca di legittimare la propria vittoria con diversi affondi, come in questo caso con la solita PER deve volare Fontana sul palo di destra. Abbiamo visto si è ripetuto diverse volte il duello tra l'esterno Alto Atesino e la portiera Granata. In questo caso al nono minuto buon intervento di Fontana che chiude la porta. Ancora Nischler salta Di Lenardo, saltata anche Durigon. La sua conclusione termina alta, siamo al dodicesimo del secondo tempo, occasione per il Meran, poteva chiudere la partita. Ancora padrone di casa in avanti con il traversone lungo dalla destra, fa buona guardia Fontana e riesce a tenere il pallone fuori dalla linea di porta. Portoguaro che cerca con i cambi di muovere la situazione ma ancora il Meran che trova spazio in avanti qui con la conclusione che termina alta sopra la traversa. Ancora l'avanzato da parte delle Alto Atesine che dimostrano buona gamba. Portoguaro che ci prova comunque nelle battute finali con Raikovi. La sua conclusione viene schermata dalla difenditrice classe 91 Wuerich. È un portoguaro che perde anche Minutello. Microfruttura il naso per lei, le vanno i migliori auguri. E rischia ancora qui con Nischler. Fontana ci mette una gamba ma non basta. Serve Di Lenardo che spazza sulla linea. Poteva essere il 3 a 0. Ancora in avanti vediamo il Meran con questa discesa. Finisce 2 a 0. Una vittoria meritata e la nona è consecutiva per il Meran. Un saluto da Diego Gasparotto. E con questo ultimo servizio è tutto. Noi vi ringraziamo come sempre dell'attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie.